Top Dolla apre la puntata di SmackDown per introdurre proprio l'Apex Predator che si presenta sul quadrato, manda over l'artista e poi inizia a parlare della bloodline. Roman Reigns è il campione più longevo dell'era moderna e la sua stable ne ha combinate di ogni negli ultimi anni e nessuno può fermarla se non lui stesso. Alla Rumble si parla sempre di numeri ma domani l'unico numero che conterà qualcosa sarà il numero 15 perché dopo il Premium Live Event diventerà un 15 volte campione del mondo. Ecco un altro sfidante per il titolo nel Fatal 4Way, AJ Styles. AJ Styles che ricorda all'Apex Predator che c'è altra gente in quel match. Non deve fare l'errore di metterlo da parte o di sottovalutarlo, è stato colpito dalla sua RKO e quindi ha un debito da riscuotere. Non importa se dovrà sconfiggere Roman Reigns, Randy Orton o LA Knight si presenta sul ring a tempo con il promo di Styles facendo partire la sua team song con le parole del fenomenale, cucinando come non mai al microfono dicendo che se non fosse lui la minaccia maggiore per Poleman e la bloodline stasera non avrebbe un match contro solo Sikoa nel main event. Invece gli toccherà affrontare il figlio di Rikishi ma non c'è problema, lo prenderà a calci così tanto da farlo ballare come suo padre. Mentre AJ da quando è tornato piange e basta, si lamenta di ogni cosa e nonostante domani ci siano quattro uomini nel Fatal 4Way, LA Knight è l'unico con un incontro in questa puntata di SmackDown. Domani calpesterà ogni singolo essere umano che proverà a intromettersi tra lui e il titolo mondiale di Roman Reigns. Promo atomico e poi AJ Styles ha colpito Randy Orton con un pele kick per chiudere il segmento. Bella apertura di puntata. Carlito contro Santos Escobar. Quasi dieci minuti di match ma non mi hanno poi emozionato più di tanto, sono stati carini da guardare ma niente di particolare. Si sente che manca Rey Mysterio in questa storina in latina. Comunque sia, ora Santos, oltre al nuovo legato del fantasma, ha anche una componente femminile, ovvero Electra Lopez da NXT, che è arrivata ad attaccare Zelina Vega nelle fasi finali del match, distraendo Carlito e permettendo ad Escobar di chiudere il roll-up della muerte per lo schienamento decisivo. Non so dove andranno a parare con questa rivalità, ma come detto, senza Mr. 619, non credo che Santos Escobar abbia uno sfidante credibile. Carlito comunque dai, discreto sul ring, un buon ritorno, però sembra già messo da parte se vogliamo metterla così. Jimmy Uso nel backstage chiede a DJ Styles di aiutare la Bloodline a far fuori LA Knight dal match di domani alla Rumble, visto che stanotte dovrà affrontare solo Sicoa e potrebbe essere un'ottima occasione per farlo. DJ non ha dato una chiara risposta, ma si sono presentati Misheen, Anderson e Gellows per prendersela con Luso, chiedendo poi spiegazioni al fenomenale che gli ha risposto semplicemente di non preoccuparsi e se n'è andato. Sembrava un po' scocciato, eh? Attenzione che alla Rumble AJ entra nella Bloodline. No dai, non credo, però quest'outfit da Bloodline ce l'ha un po', eh? Bobby Lashley e Santos Escobar pescano il loro numero d'entrata nella Rumble. Che bello vedere la ruota con le palline di plastica dentro, i numeri, le estrazioni. Mi mancavano questi segmenti. La Road to Royal Rumble. Promo di Bayley su come ha messo insieme la damage control dopo il suo infortunio, è tornata e vuole vincere la Rumble per battere Rhea Ripley a Restylmania, così che la sua stable possa ottenere tutti i titoli dopo che stanotte le Kabuki Warriors riconquisteranno quelli di coppia. Artruth nel backstage pesca il suo numero, lo estrae, lo legge e dice Ah, quindi sono fuori dalla quarantena? Presumo abbia pescato il 19 del Covid-19. E Aldis gli ha detto No, guarda che quello è il tuo numero d'entrata alla Royal Rumble. E Artruth ha ringraziato il general manager, chiamandolo ad ampirsi e dicendogli Madonna, le stanno crescendo in fretta i capelli. E si è anche ingrossato un bel po'. Lo amo. Amo Artruth. Match per i titoli di coppia, Kaden Carter e Katana Shanks contro le Kabuki Warriors, Asuka e Keri Sane. 9 minuti di match, abbiamo delle nuove campionesse di coppia, le Kabuki Warriors. Credo abbia senso questo cambio di titolo, ma così repentino, povere Kaden e Katana, dai. Stavano facendo bene, erano una delle poche coppie credibili, insieme proprio alle Kabuki Warriors. E il loro breve regno si conclude così a ridosso della Royal Rumble con le nipponiche nuove campionesse, grazie. All'insane elbow e ad un DDT inverso di Asuka, connesso allo stesso momento per lo schienamento decisivo. La contesa è stata davvero godibile, quando hai due coppie effettive una contro l'altra, anche la divisione femminile tag team può dire la sua. E l'hanno dimostrato. Mi dispiace davvero per le ex campionesse, però, vabbè, le Kabuki Warriors spaccano, lo sappiamo bene. Funzionano insieme, funzioneranno come campionesse, ci sta, lo accetto rispetto ad altre coppie assemblate a caso. Meglio averne una, vera e credibile. Paul Heyman dice a Solosicoa che settimana scorsa ha risolto un problema, ma non lo ha sistemato. Non lo so, ha fatto un discorso sul sistemare e risolvere la differenza tra questi due verbi. Poi Heyman ha parlato a Jimmy Uso dicendo, chiaro, c'è un campione zoppicante, su una gamba sola, un martire, che può creare un'opportunità per Jimmy Uso. Jimmy potrebbe vincere la Rumble, arrivare a WrestleMania e sconfiggere Seth freaking Rollins. Portando il titolo mondiale dei presi massimi alla Bloodline. Incredibile come Paul Heyman mi faccia interessare anche ad un possibile percorso in singolo di Jimmy Uso. Cioè, adesso ci credo quasi nella vittoria della Rumble di Jimmy. Non succederà mai, ovviamente, per carità. Bayley, nell'ufficio del general manager, incontra Bianca Belair. Le due discutono del numero pescato da Bianca. Bianca dice che vincerà la Royal Rumble diventando una due volte campionessa della rissa reale. Bayley pesca il suo fogliettino, ma non sembra molto contenta di ciò che c'è scritto sopra. Street Profits e Earth Business... Eh, sì, ciao. Bobby Lashley e gli Street Profits si presentano con un microfono dicendo che stanno inseguendo da tempo dei codardi. I codardi del testamento finale. Mi fa sempre ridere dirlo in italiano. La gente vuole vedere una rissa, quindi basta giocare a nascondino. La stable di Cross deve presentarsi e fare a botte, qui e ora. Si spengono le luci, arriva la nuova fazione, con Scarlet che apre le danze, sale sul ring, mentre gli altri aspettano sulla rampa d'ingresso. L'All Mighty ha detto a Cross che è un codardo se manda davanti la sua compagna e il leader della stable, Hill, ha risposto che vede solo frustrazione in Ford, Dawkins e Lashley. Vede disperazione e un po' gli dispiace deluderli, ma stasera non avranno una rissa. Ford e Dawkins hanno caricato il gruppo rivale e Scarlet invece è saltata addosso a Bobby Lashley, accecandolo con le dita negli occhi e permettendo a Cross di schiantare l'All Mighty contro il paletto, continuando poi ad attaccarlo, mentre gli Otros of Pain hanno fatto piazza pulita di Dawkins e Ford con le loro powerbomb, schiacciando poi l'ex campione mondiale Bobby Lashley, grazie alla loro superiorità numerica, fino al Cross Hammer nel cervelletto che gli ha spappolato la testa. Ci sta, dai, non male come introduzione fisica del gruppo. Jimmy pesca il numero della Rumble e non è molto felice. Austin Theory torna sul ring, accolto bene dal pubblico dopo il brutto infortunio, la brutta caduta di due settimane fa, per il rematch, tra virgolette, contro Carmelo Ace, accompagnato chiaramente da Grayson Waller. Il match è durato poco più di 5 minuti, a vincere è stato Austin Theory, grazie ad un roll-up sporco, agguantando il costumino di Carmelo Ace, assist fornito da Grayson Waller, che è salito sull'epron distraendo l'arbitro, ma la parte interessante è il post-match, perché i due Hill hanno attaccato Carmelo Ace, e Trick Williams si è presentato, accolto benissimo dal pubblico, per salvare l'atleta di NXT, anche se c'era un po' di tensione ancora accumulata tra Trick e Carmelo Ace. Eladio Carrion dice che il favorito per domani è Randy Orton, arriva solo Sicoa a guardarlo male, e il rapper, boh, si caga addosso. Main event di serata, Ellen Knight contro solo Sicoa, con Bloodline al seguito. Vince Ellen Knight per squalifica, perché dopo 8 minuti, AJ Styles vola dalle barricate, colpendo la Megastar con il suo fenomenal forearm, dopo che l'ex Max Dupree stava distruggendo solo fuori dal ring, prima spiaccicandolo sul tavolo dei commentatori e poi mollandogli una ginocchiata in testa. Il match comunque sia è stato onesto fino al finale per squalifica, mi stavo anche divertendo, non è la prima volta che Ellen Knight e solo Sicoa si incontrano e mostrano buona chimica, buona alchimia tra loro, ovviamente ci si poteva aspettare una conclusione di incontro così, e dopo il match overbooking a palla, con AJ Styles che ha attaccato Ellen Knight schiantandolo contro i gradoni. Poi AJ Styles ha preso una sedia incitato da Jimmy e solo, stava per attaccare Ellen Knight e in realtà non si è alleato con la Bloodline, anzi l'ha attaccata, mettendo KO i due sgherri di Roman Reigns. Arriva Randy Orton, che prima colpisce Jimmy col powerslam e poi mette fuori gioco solo Sicoa schiantandolo contro il tavolo, poi connette il suo apron DDT sul fratello DJ, stessa manovra su AJ Styles e si è beccato anche un archeio, sembrava finita la puntata musica che risuona nell'arena, ma Ellen Knight da dietro afferra l'Ipex Predator BFT, e così si è chiuso l'ultimo show prima della rissa reale di domani notte, anzi di stanotte. Puntata abbastanza solida, bello vedere i segmenti con le pescate dei numeri, mi fanno sempre divertire, match discreti, nessuno eccellente, nessuno insufficiente, e siamo pronti per scoprire chi vincerà la rissa reale, chi uscirà campione del mondo, Roman Reigns, dal premium live event. Non posso far altro che darvi appuntamento con l'analisi, non so se domani, perché vi ripeto, sarò a Novegro domenica, quindi non so se riuscirò a fare l'analisi. Se sarete anche voi al Novegro Comics, salutatemi. Sono quello alto, guardate su Instagram come sono fatto, metterò qualche storia in giro a cazzeggiare, a dare fuoco agli stand. No, sto scherzando, signori del Novegro Comics, per carità. Certify 2i V2 o WTF- e noi ci sentiamo presto, ciao!